Ma è vero che la soia a lungo andare può creare problemi di tiroide? Com'è possibile, visto che in Oriente è molto usata sia come condimento sia come base del pasto? Ginevra si è fatta, come dicevano, una domanda e si è data anche una risposta in qualche modo, nel senso che mette in evidenza come in territori dove viene utilizzata molto di più che da noi la soia, questa non ha un impatto drammatico. Qui la letteratura scientifica si sta un pochino, tanto si sta facendo queste domande, cercando di dare delle risposte, sta cominciando a darle anche se sono molte ancora le domande che non vengono date delle risposte totalmente esaustive. Sì, per esempio gli isoflavoni che sono tipici della soia possono teoricamente più in laboratorio che non in vitro, in vivo, dare una riduzione della produzione di ormoni di uedeo. È vero che l'attività estrogenosimile della soia può in qualche maniera avere un impatto sulla funzione tiroidea in una maniera indiretta, però attenzione perché in realtà il dato che forse è più convincente della produzione scientifica attuale sulla relazione tra la soia e la tiroide è che in una condizione di eutiroidismo, soprattutto in una condizione di supplementazione di iodio sufficiente, ricordiamoci che noi in Italia siamo in una regione a grave carenza iodica dove ancora troppo poco viene usato il sale rinforzato con iodio, integrato con iodio, questo può manifestarsi, cioè gli effetti della soia si possono manifestare in una maniera forse più evidente quando questa carenza c'è, quindi è più la carenza di iodio che può mettere a rischio per quello che riguarda l'associazione tra soia e ormoni di uedeo. Ma c'è una cosa che va detta che è fondamentale, soprattutto riguarda il paziente che sta assumendo ormoni di uedeo, che è preoccupato, questa è la tipica domanda del paziente a cui viene somministrato ormoni di uedeo e dice ma io posso mangiare il tofu, posso mangiare i prodotti a base di soia? Sì, basta che vengano mangiati mezz'ora dopo l'assunzione dell'ormoni di uedeo e questo è un'obvietà ma l'ormoni di uedeo appunto si assorbe nel giro di questi famosi 30 minuti che precedono la colazione, si prende a stomaco vuoto proprio per questo, dopo questo, dopo passati questi 30 minuti sostanzialmente l'effetto, se ci fosse un effetto di competizione con l'azione dell'ormoni di uedeo, competizione negativa con l'azione dell'ormoni di uedeo, questo ovviamente scompare nel momento in cui l'ormoni di uedeo è completamente assorbito. Quindi se queste due norme fondamentali, a salute dello iodio, cioè presenza di iodio nella dieta in maniera corretta, b assunzione dei prodotti a base di soia o di soia a distanza dall'assunzione dei farmaci a base di ormoni di uedeo, se vengono rispettate queste due regole il pericolo non si corre.